Eeeh what's up a tutti ciurmo e benvenuti raggio green in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok Vi ricordo ragazzi che il vostro sostenibile hack è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Ed eccoci qua di ritorno signori e signori dopo che la volta scorsa alla fine con Atreus Ci siamo ritrovati direttamente nel bosco di ferro Questo luogo mistico che a quanto aveva detto Mimir ragazzi non esiste Però non esiste no perché ci siamo ritrovati proprio lì Non ho ancora capito in effetti come ma ci siamo ritrovati lì Dove un branco di lupi ci ha praticamente guidati fino ad Angerboda L'ho detto giusto? Credo si dica così, era questo il nome? Insomma ragazzi questa ragazzina della stessa età di Atreus che vive nel bosco di ferro E a quanto pare sa di varie profezie Sapeva addirittura che noi saremmo arrivati E ha detto che il suo destino è quello di rivelare a noi il nostro destino Infatti ad un certo punto ragazzi ci ha mostrato una profezia su dei blocchi di pietra Fatto sta che non ci ha reso molto felici questa cosa perché alla fine della profezia ragazzi Si vedeva distintamente Atreus assieme ad Odino al servizio di Odino E questa profezia quindi preannuncia ragazzi anche la morte di Kratos Ovviamente Atreus ha letteralmente sbarellato e in preda alle sue emozioni Si è trasformato in un meraviglioso lupo Poi per fortuna ragazzi abbiamo ripreso un attimino controllo della nostra rabbia Atreus si è calmato e è tornato in sé Quindi Angerboda ci ha portato praticamente un pochettino in giro A cazzeggiare fondamentalmente ragazzi Proprio per evitare di pensare a questa profezia Fatto sta che adesso siamo ancora nel bosco di ferro assieme a lei E quindi ragazzi l'ultima volta c'eravamo salutati qui Possiamo decidere se andare via o restare Ma Atreus ha ben deciso di restare chissà magari anche interessato A questa ragazza che abbiamo conosciuto Quindi possiamo salire è vero? Si Continuiamo con i nostri piccoli compiti Va bene ok vediamo che cos'altro ci fa fare l'interessante Facciamoci una grassa risata perché devi ne recrato su un artista ragazzi Ok Si il nome l'ho azzeccato ragazzi Hai per caso degli animali più veloci? Senza offesa Yala Certo che si ma non possono trasportare entrambi Così è molto più facile Ok Capito Va bene andiamo allora Ce n'è un'altra lungo il sentiero Prendi solo ciò che ti serve Vedi Ok Ah parli di queste radici Va bene Allora andrò avanti e vediamo se riusciamo a trovarne delle altre Qua c'era insicuro qualcuna Esatto Guarda quanti funghetti No le radici si spezzano facilmente Lì Prendine solo un po' Basta una bella torsione Così? Sì così Arriviamo arriviamo Di qua ci sono altre radici Ok Aspetta che ti seguo eh Non correre Perfetto Yala ci guida Andiamo avanti allora Non mi piaccio proprio Vero? Ma sì È solo che A parte me l'unica altra persona con cui è stata Non è Droga sul crinale Che cavolo di volo Ok Atreus è in grano che analizza la sua furia di Sparta Per trasformarsi in un lupo Adoro Adoro ragazzi Oddio Che cosa bellissima È stupendo È stupendo Wow Wow Ok Adoro ragazzi È fantastica questa cosa Per la miseria Vai Oui Ok Oddio Minchia Non so come ha fatto a mancarmi Mi è andata bene Mi è andata bene Aia Per la miseria Dobbiamo ad usare il cervo ragazzi C'è il cervo Il Lo stambecco Sembrerebbe più lo stambecco Si Tutto ok Wow È strano È strano quando mi trasformo Non ho il controllo E a che ti serve È quello che gli va dicendo Kratos Praticamente da sempre Che invece deve avere controllo Forse proprio per questo motivo ragazzi Perché comunque quando si è in preda alle proprie emozioni Non si è razionali per niente E quindi si possono fare anche scelte avventate Sbagliate Rischiose Forse Forse principalmente per questo insomma Però Quando Atreus si fa prendere dalle emozioni Si trasforma in animale Wow Beh almeno qui ci sono delle radici Prendile mentre cerchiamo una via d'uscita Senza pugnale ok Ah ok Va bene Ha qualcosa è servito E cosa servono ste radici tra l'altro Le siamo raccontati Oh caspiterina Questo mi sa che ci darà del filo da torcere Mi sa proprio di si Vai vai Anger vai Adoro Ciao ragazzi Ciao ciao Come la va Come la va Eh Adoro Bellissimo Bellissimo Combattere con Atreus ragazzi Eh Boom bitch kanske Ok Meglio che non raccolga più radici per un po' Beh Ok Beh Ogni volta che raccolgo radici succede un macello forse è meglio lasciarle perdere infatti vogliamo questa giamma vitale ragazzi e andiamo avanti eccola qua sta bene sta bene si deve trovare qualcosa che appunto lo aiuti a restare in sé anche se in preda alla rabbia il posto è bellissimo cioè caratterizzato benissimo ricordate questi cervi ragazzi con queste corna dorate che belli va bene un'ultima cosa che devo mostrare che belli che sono stupendi tutto ok sì ma dovremmo tornare in direzione dell'acqua di qua ti va se stiamo insieme un altro po' magari per che ne so riparare qualcosa sì ok a treus è piaciuto particolarmente stare qua tu puoi trasformarti in qualche animale non ancora ma credo che sia una cosa da dio più che una cosa da giganti oh probabilmente grazie per aver infierito scusa scherzo passa dalla galleria a destra Yalla siamo diretti lì bene qua la strada però è sbarrata vicolo cieco fantastico forse è per questo che non ho percepito altri giganti l'altra volta qua c'è un forziere tra l'altro scusa posso scendere arrivo subito che faccio lo lascio qua è certo che no ecco fatto aspettami aspettami dove vai oh fermate un po' ecco ok bene allora quell'anima nel tuo pugnale la cosa? c'è c'è un'anima all'interno nel tuo pugnale ah no l'anima di chi? bello capirai ma per il momento è meglio se la lasci dov'è come non vado in giro a rubare l'anima della gente non è che l'anima della madre ragazzi saliamo su quella roccia Yalla passa dall'acqua e ci aspetta dall'altro lato ok ma sta cosa pure c'è nuova ragazzi stiamo scoprendo veramente tante cose che non sapevamo c'è un'anima nel nostro pugnale Yalla di solito ci mette un po' ok 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 proviamo vai sembra facile beh mica tanto ti aiuto no forse ho capito se oh uno ora ridi di me non rido di te io ah no rido della situazione ah ah ok ok dai si ha rimbalzato forse mi serve un po' di aiuto qui ci riuscirai lancialo di piatto è questione di tempismo quando lo lanci ok io non sono mai riuscita ragazzi a far rimbalzare un sasso sull'acqua mai tieni premuto e rilascia guarda questo ma che cavolo ma controllalo tu ok d'accordo come dici te vado che meraviglia questo lupo dove sono i nemici che adesso mi ritrasformo via finito eh mannaggia dura troppo poco ragazzi troppo poco mannaggia la pupazza ok attenzione ui belli belli fare un altro via ecco qua bello mi ha colpito in pieno perfetto vai e è caduto di sotto poverino ahia tua sorella è pure qua sopra il bastardo ok niente fuori gli altri oddio cos'è stato quel botto incredibile fuori 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 eh mannaggia oh 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 che cavolo vai vai questo è un po' che tiro più duro da mandare giù wei wei aia ciao bello ecco fatto si lo vedo me ne occupo subito ecco fatto quello comunque non contava l'ultimo tiro si che conta è uscito un drogger dall'acqua come no possiamo riprovare più tardi in effetti a dirla tutta è uscito un drogo dall'acqua ah per giustificare a tre insomma va bene riproviamo scusa no c'eravamo non c'è stata data la possibilità di tirare vai e si migliora ah devo rilasciare al momento giusto ok grazie 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 va bene dai lasciamo un po' perdere sti sassi e vediamo di continuare per la nostra strada uh ciao andiamo va che mi deve mostrare una cosa mi deve mostrare una cosa ho una cosa per te eh ma un regalo direi dovrei preoccuparmi no io non ho nulla per te ok intanto proviamo a salire di qua ragazzi e vediamo un pochettino cosa c'è di interessante qua non possiamo salire però possiamo fare questo wii qua dentro cosa c'è di così bello raffinatura delle pietre eroniche minerale raffinato della scintilla del mondo in un luogo in cui il caos e l'ordine prosperano in sintonia bello sarà un miglioramento roba del genere arrivo hopla procediamo procediamo posso chiederti una cosa certo sei siamo gli unici giganti rimasti più o meno è complicato voglio sapere sarà e la mia profezia allora se è vera cosa pensi debba fare non ha importanza non cambierà il tuo destino puoi cercare con tutte le forze di cambiarlo ma si avvererà comunque mi stai dicendo che nessuno ha mai cambiato il suo destino mai cioè sì magari alcuni dettagli cambiano ma la sostanza rimane la stessa meglio seguire il tuo destino che cercare di resisterli mannaggia raccogliamo sta roba ragazzi Eistla lo apprezzerà molto è sempre affamata quindi questo è il punto ragazzi allora qui a Jottenheim c'è un lupo di nome Eistla secondo Angerboda è la più affamata del branco lo capisco tutti hanno un amico affamato Fenn aveva sempre un gran appetito ogni volta che gli portavamo della carne di cervo fresca dopo tutto quello che è passato a Angerboda capisco quanto sia confortante prendersi cura di tutti questi animali come fa lei è una cosa semplice ma ricca di significato molto sono d'accordo comunque ragazzi ci ha riconfermato quello che avevamo già capito la volta scorsa non puoi cambiare il tuo destino cioè la profezia dice che succederà quello succederà quello in un modo o nell'altro per quanti sforzi tu faccia per evitarlo succederà è così ma devo andare di qua è giusto penso di sì ok che cos'è siamo arrivati un elevatore dovremo lasciare Yalla per un po' ah ok strada negli Yotnar va bene andiamo su come dici tu cara farà ah questo regalo non sembra una cosa che ti rende felice significa solo che siamo giunti alla fine cosa intendi lo capirai quando arriveremo nel senso che poi non ci vedremo tipo più robe del genere cioè siamo giunti alla fine di che cosa del nostro incontro cioè faccio tutte le mie congetture ragazzi poi magari mi sbaglio ma non è entusiasta di questa cosa è il momento di compiere la mia parte di profezia seguimi ok ti seguo segui hunger boda nel canyon il santuario perduto pensavo che la sua parte di profezia l'avesse già compiuta nel senso mostrarci la profezia appunto oddio ma questi sono quelli che avevamo incontrato tipo nel regno di hell robe simili cioè si assomigliano perlomeno non so se sono gli stessi personaggi ma sembrerebbe ragazzi stordi man stordi man va bene vado mi avete rotto un po' di scatole in effetti ok a posto possiamo procedere allora ok sollevo io questo massone facciamo insieme facciamo insieme che la madonna sempre pronti a rompere un po' le scatole anche voi come quelli di prima wuuu wuuu il doppio stordi in mendo questi sono un po' più veloci in vista credo infatti aia aia e aia e su oh no pure gli incubi gli incubi via maledetti incubi di mer chiamo di stare attenti ragazzi perché farsi colpire non è mai piacevole ecco fatto oh recuperiamo un po' di vita gemma vitale qua che cosa c'è che sbrilluccica resti di bestia ok altra gemma vitale recuperiamo così tutta la vita ragazzi e andiamo avanti gherboda ci precede già di qua stiamo arrivando alla valle dei caduti che cosa gli è successo erano stanchi di avere paura di asgard così si sono nascosti hanno lasciato dei cadaveri per confondere odino nel caso trovasse jotenheim dove sono ora lo vedrai ok tutto questo incredibile mistero ragazzi siamo arrivati va bene vado allora ce la faccio ah si con gli affari che aveva trovato negli affreschi di tua madre si si esatto ce ne sono altre che cosa sono da un'occhiata ti asi ci sono nomi roder ehi sta attento bara i giganti appartenevano ai giganti questi sono i giganti come dovevano scegliere tra restare a jotenheim e attendere che odino li trovasse per sterminarli oppure nascondersi mio padre ha infuso la loro anima in queste biglie e prima della sua morte lui le ha affidate a me e dentro queste hanno trovato la pace ora la responsabilità è tua perché ne sei sicura beh è quello che mia madre ha visto tu saprai cosa farne quando verrà il momento e quando sarà non lo so torniamo indietro questa è un'enorme responsabilità è così ed è tutta tua ehi tutto bene sì sì no è solo che ho concluso credo ora che ti ho dato le biglie il mio ruolo in tutto questo è finito tu potresti venire con me combatteremo odino insieme se avessi dovuto combattere al tuo fianco io non scomparirei a metà del tuo dannato murale capisco beh dovremmo lasciarle tutte insieme sei d'accordo riprendiamo il cammino oh cavolo regà il picco più alto di l'unica altra volta che sono venuto a Jotenaim ci sono stato con mio padre conosci le dita del gigante lì ho sparso le ceneri di mia madre sembra un'eternità è vero non sarà uno stupido murale a sancire la fine della tua storia lo so cioè ho dei progetti è solo finita per quanto riguarda i giganti e io quindi cosa sono un'amica torna da Yalla e beh ragazzi ennesima scoperta abbastanza pazzesca perché a quanto pare i giganti non sono effettivamente tutti completamente scomparsi le loro anime sono state racchiuse in questi oggettini per tenerli al sicuro per evitare che Odino li eliminasse tutti però non ci è stato dato sapere ragazzi come bisognerà usare le anime di questi giganti se in qualche modo possono essere fatti tornare in vita una cosa abbastanza scioccante direi pure questa questa responsabilità tra l'altro è stata affidata ad Atreus adesso io mi chiedo Atreus come farà a raccontare tutta questa roba a Kratos cioè tra l'altro quanto tempo cioè noi stiamo ancora dormendo che cosa vieni ad aiutarmi dobbiamo tornare da Yalla c'è qualcosa che non va sì un attimo cioè stiamo ancora dormendo davvero non siamo più a casa di Sindri cioè qualcuno si è accorto che non ci siamo boh non ci è dato sapere neanche questo ragazzi e bisognerebbe pure vedere se il tempo qui è uguale al tempo dalle altre parti perché magari anche il boda non è che oh sta bene che succede che succede che cavolo tutto ok ce la faccio oh porca miseria porca miseria ragazzi allora boni usiamo pure questo e mi sa che mi toccherà usare pure il lupo ragazzi usiamolo è un nemico abbastanza temibile non voglio rischiare troppo sinceramente mamma mia dura sempre fin troppo poco sta cosa ok questo non subisce danni rastordimento non ne subisce ahia tua sorella ehi ehi non mi colpirai di nuovo per la miseriaccia ok continua pure a colpire l'aria che va benissimo così merdaccia che non si altro ha sbattuto contro il muro ok benissimo mi senti il nome di idalir ecco mi arrivo stava bene ti chiedo scusa beh comunque ci ha fatto un attimo preoccupare queste biglie sono tutto ciò che rimane dei giganti non di tutti alcuni sono solo scomparsi ma dove potrebbero essere a quanto pare da nessuna parte nei nove regni cioè come fa un essere a scomparire così a caso cioè da qualche parte saranno andati scusate da nessuna parte i nove regni c'è qualcosa oltre i nove regni boh magari hanno trovato il modo di nascondersi da qualche altra parte chi lo sa oltre quelle rocce c'è una voragine stiamo andando lì dovremmo pensi a qualcosa nessuno credeva che questo posto esistesse saranno molto sorpresi Loki non puoi dire a nessuno del bosco di ferro nemmeno a tuo padre per tenere al sicuro questo posto da Odino deve rimanere un segreto le mie difese possono tenere lontani gli animali ma se Asgard venisse a curiosare ho capito scusa non lo dirò a nessuno molto bene quindi non possiamo comunque parlarne a nessuno come spieghiamo del tutto vabbè esamina il passaggio nascosto ragazzi la situazione si fa complicatina molto bene quindi andiamo avanti a piedi senza Yalla abbiamo compagnia ma che bello ciao 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 che bellissimo che cos'è io salgo un attimo di qua perché ecco questo intanto lo raccolgo quindi Irpa è il capobranco no quella è notte una delle anziane ok tanto ho raccolto dei pezzi d'argento ragazzi ragazzi ma quindi Yalla non mi spingere però elimina gli abietti oh gli abietti da lavoraggine ah è lei che tiene la corda top adoro va bene ma tutto questo che ci serve in effetti voragine di di perfetto ehi ehi io hai ucciso un fiore oh io è un regalo grazie ma vuoi tenerlo ah comunque stiamo cercando nidi di abietti forniscono le scorte che mi servono perciò occhi aperti ok Atreus voleva fare il carino ma quanto fare lei non ha apprezzato per niente il gesto grazie ma lo puoi tenere cioè nel tipo se fa schifo hai hai ucciso un fiore wow molto bene molto bene non iniziamo per niente bene le cose romantiche va bene andiamo avanti ci penso io trovo delle torce che hunger boda può accendere con la sua magia dobbiamo far fuori ok adesso mi ricordo degli abietti sono quelli che puzzano tipo di morte tipo tantissimo roba del genere si sono quelli puzzolenti facciamo fuori il nido ragazzi così non escono più gli abietti potremmo vederli eliminarli e sottrarre loro ciò che mi serve facciamolo ok vai avanti io accendo le torce ok puoi accendere qua per esempio che bello bellissima la torcia lì ci sono dei drog di qua vabbè dobbiamo sì lo so tesoro forse ci sono esattamente forse ci sono loro è uno di quelli che esplode chissà va bene non vedo una ceppa ragazzi ok altra torcia perfetto qua possiamo salire questo posto non era così vivace ecco eh che successo nel frattempo ok comunque dobbiamo distruggere altre trettane ragazzi capito ok va bene allora sti droghe da qualche parte staranno arrivando comunque forse non lo posso aprire fin quando c'è questa merda che va in giro mannaggia a voi dove cavolo è la tananisticosi accendi un po' mamma mia tra l'altro quanto è grosso sto posto scusate ragazzi eh pazzesco ecco qua fatto sì vedo vedo qualcosa riprenderà vita chi lo sa apriamoci il cammino da lì ragazzi o continuo ad andare eh è qua ah ecco oddio cioè oh oddio di quelli che esplodono ma attenzione dov'è il nido scusate quello può esplodere beh infatto cosa qua non c'è nido non c'è niente per la miseria o forse è di qua no qua prendo sta roba ci penso io mamma mia rega così completamente al buio senza poter vedere una mazza una bene amata mazza direi vediamoli qua bene si qua c'è un mega forziere aia e il testicolo continua ad arrivare ragazzi intanto apri questo scusate molto bene accessori artiglio infuso con proprietà runiche ottenuto dalla progenia del grande falco abrok va benissimo grazie grazie mille cattivissimo lui non ci bastavano no le puzze con i piedi dov'è il nido dove non l'ho visto ok dov'è il nido ah di qua colore preferito dovrei sceglierne uno non se ne hai più di uno no no ci sono il blu no forse il verde ma anche il giallo è bello come posso non intitare l'uomo eh vabbè i colori si sono tutti belli però ce ne sarà uno che ti piace di più particolarmente no ah eccolo il nido maledetto per la miseria attenzione all'esplosione di puzza ecco ecco infatti ok due di quattro perfetto proviamo a tornare di qua e vediamo se riusciamo a trovare un'altra strada ragazzi saliamo di qua qua già ci sono passata ho acceso tutte le torce però sto forse prima non l'avevo visto qua c'è un altro nido ragazzi no non ci sono stata qui in effetti via la centrale di puzza ne manca uno di regola quindi proviamo ad andare di qua e vediamo un po' chi è e se venissi con me Midgard gli altri regni ovunque non penso sia una buona idea i miei animali hanno bisogno di me ma è gentile da parte tua beh questo pure è vero come di acqua vecchia non vanno ad andare di qua ragazzi e qua è tutto buio e di qua non ci son venuta difficile non perdersi qui dentro ok se lo dici tu apriamo qua e niente ragazzi mi sa che lui si è preso una bella cortarella ok perfetto l'altro nido deve essere qua vicino ragazzi quindi proviamo a procedere da questa parte anche se non si vede assolutamente oddio nulla aspetta aspetta eccola là sta roba contro chi ce l'hai ok una puzza con i piedi oddio sti cadaveri ecco che poi non sono cadaveri non tutti perlomeno per la gioia di tutti noi perfetto facciamo fuori il nido ragazzi prima che continui a partorire pux ecco fatto risali in superficie ma perché adesso c'è la musica ansiogena che succede per colpa di questo no eeeh mo ci devono assalire tutti quanti e su lasciateci un po' che palle che siete resti di bestia va benissimo ok adesso posso aprire questo ti senti meglio si torniamo indietro ferro battuto legname pezzi dungeon perfetto adesso allora possiamo tornare indietro anche se qua io continuo a non vedere niente ma possiamo passare di qua oh un dazzo il burma ecco fatto c'è qualcun altro qualcun altro ci vuole assalire sembrerebbe di no perfetto allora torniamo indietro boh non lo so ragazzi vi dirò ecco questa è la madre delle puzze in pratica facciamola fuori ok yeee già già perfetto ovviamente non è che la facciamo già fuori ma va benissimo vai però colpiscila un po' eee 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 per la miseria da 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 la madre di tutte le puzze e lei mi carica però io ti do le pacche sul popò ecco fatto perfetto ok ragazzi ok eliminiamo i figlioletti no tutto a posto benissimo sguardo del tiratore rallenta il tempo e scocca tre frecce potenziate premendo r1 ok perché attualmente ho questo aumenta il numero di frecce scoccate mentre questo rallenta il tempo ok però le spara singolarmente le frecce non penso che per ora atterrò quello che ho ragazzi questo legname andiamo a casa sì direi stavo dicendo ragazzi poco prima che la madre delle puzze mi interrompesse che tutto ciò allora è tutto molto bello qua nel bosco di ferro per carità però mi sembra che queste cose siano state messe giusto per allungare un pochettino la roba perché cioè raga ad esempio scendere qua sotto e distruggere i nidi delle puzze beh mi sembra più una roba secondaria non è una roba importante per la storia principale in effetti pensavo pensavo invece che è successo torniamo indietro no aggiriamo la voragine sarà più veloce ok cavalchiamo Yalla sempre vai a casa passando dalla palude chissà perché la palude non mi dice niente di buono però ti seguo a ruota andiamo ammazza quando corri corri però eh andiamo allora vabbè qua dovremmo prendere Yalla esatto è venuto è venuto a casa mia lui cosa sembra quasi un incubo sì in effetti sì lo è stato diciamocela tutta però è vero anche lui aveva avuto una visione è così andiamo 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 ci godiamo questo paesaggio sicuramente bellissimo lucciole sono pericolose adorabile carine sì non ha mai visto lucciole ragazzi che belle che sono una volta ce n'erano molte di più ragazzi attualmente io non ne vedo più in giro purtroppo triste ma vero magari in campagna ancora si riescono a vedere tempismo perfetto per cosa? oh wow so che le cose sono state strane in molti modi ma sono felice che sei venuto anch'io ok io suppongo che possiamo decidere di alzarci in qualsiasi momento quindi direi di andare ragazzi è bellissimo comunque davvero bellissimo però suppongo che io comunque qui posso tornare ogni volta che voglio vero quando quando le cose si calmeranno cioè dopo il Ragnarok sì certo non penso che sarò impegnata quindi possiamo decidere in qualsiasi momento di tornarci vabbè questo è buono a sapersi ragazzi però adesso credo che sarà arrivato il momento ragazzi di tornare indietro facciamo riposare Yalla ok dicevo sul serio prima lo sai i tuoi dipinti sono eccellenti cerchi di tirarmi su già funziona richiedimelo tra oddio no era ora miseria no poverino ma che smettila inutile guaire ora ma chi è ora ma che cavolo ma poverino ma poverino maledizione chi era quella grilla lei no che ha che non va non riesco a sentire niente non c'è sembra grilla gli ha rubato l'anima oh sai dove vive che cosa vuoi fare ho sepolto troppi lupi quest'inverno seguimi io che pensavo fosse arrivato il momento di tornare a casa ragazzi libera il lupo da grilla ma tra l'altro chi è questa grilla ci penso io sì lo so ci penso io cioè ci ha detto il nome ma non ci ha effettivamente spiegato chi è perché cattura i lupi così oh quanti siete minchia quanti sono ragazzi e perché dice che toglie l'anima agli animali la curiosità quasi fa sentire non ho capito che cavolo è successo va dentro con una spezzata vabbè ma che facciamo andiamo avanti torniamo indietro facciamo avanti e indietro no lo so oh e quanta gente c'è qui fermi ecco qua fuori un altro e fuori un altro ancora e anche un altro e anche te ok se incontriamo grilla non fare niente di esagerato perché è mia nonna cosa non è sempre stata così quando scoprì che mio padre non avrebbe fatto nulla per evitare il suo destino lei cambiò capisco dobbiamo trovare un modo per passare ok grilla è la nonna di hunger boda normalmente sarei emozionata al pensiero di incontrare uno dei pochi giganti rimasti ma il rapporto tra lei e hunger boda è a dir poco teso non come lo era tra me e mio padre prima di iniziare il nostro viaggio ma sembra che grilla abbia fatto qualcosa che ha ferito hunger boda ha detto che grilla è cambiata dopo che il padre di hunger boda ha rifiutato di sfidare il suo destino prima abbiamo visto un animale senza anima sta forse prendendo le anime dagli esseri viventi sì ma perché a che scopo cioè per quale motivo tra l'altro devo trovare un modo per passare vediamo allora salirò qui poi poi farò questo schiata ecco fatto ho aperto la strada di regola possiamo passare da qua sotto vieni perfetto adesso si aspetta aspetta che ti avviso vediamo un po' pezzi d'argento e di qua che cosa vediamo ragazzi posso per saltare questo ecco fatto adesso si si può andare avanti mazza come corre la ragazza oh oh è quel coso esatto immaginavo ci avrei ci avrei giurato guarda l'avremmo rincontrato molto presto chissà perché ragazzi parata incredibile intanto poi mi sono fatta ricolpire di nuovo come una polla ok l'ho colpito sembrerebbe di sì ma ne è uscito un altro davvero tanto questo sta per morire ragazzi forza e coraggio ok fuori 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 uno oddio tazze il burm che palle ci mancavano i tazze il burm della ceppa maledizione vai perfetto oh che schifo non mi scutare addosso i tuoi succhi gastrici che porcheria per favore un po' di norme igieniche che cavolo ok oh ci vivevano molti giganti qui una volta vuoi sapere di tua madre ha vissuto tanti anni prima di avere tu ma non ne so nulla mi dispiace non so nulla su chi lei tua madre ha lasciato i giganti molto prima che io nascessi ok vabbè dai ce ne faremo una ragione tanto purtroppo di nostra madre tante cose non le sappiamo ragazzi chissà se la cosa è rimasta così magari andando più avanti uuuu ma qui le luci sono spente forse è a controllare le trappole ma potrebbe avere altri animali dentro dobbiamo fare in fretta beh li libereremo questo è poco ma sicuro ma proviamo a vedere come si entra ragazzi dubito che entreremo dalla porta principale magari c'è un ingresso secondario ma dobbiamo capire come raggiungerlo eh sì allora qua sopra ci si può appendere ma bisognerà far cadere qualcosa probabilmente proviamo a salire di qua ragazzi prima ecco qua vediamo un po' se da qui possiamo ok aspetta che magari troviamo il modo di farti attraversare sto guardando ragazzi ma non vedo niente ah sì qua guardate ragazzi qua si può distruggere sta roba c'era una roba che sbrilluccicava scusate fatemi vedere un po' neanche da qua la posso colpire ah ragazzi vedete ecco deve passare giusto dentro questo buco ok così sì fantastico adesso riesco a saltare là sopra così ci apre la strada sì sì basta che butti giusto questo guarda perché le servono delle anime gli animali infatti può vivere i momenti della loro vita sentirsi finalmente libera sentire il vento sul muso mentre corre pensando solo a cosa cacciare e dove dormire ma non è reale beh sono illusioni della mente in pratica vabbè ma me la apri la strada o no perfetto e di qua si entra direttamente in casa della gigantessa nonna e vai fantastico poveri animali comunque c'è vedono utilizzate le loro le loro anime le sue cose sono enormi dov'è il lupo qui c'è la porta dello scantinato forse è dove tiene gli animali ok beh le sue cose sono enormi a quanto pare detto che abbiamo detto che è un gigante sarà abbastanza gigante perché prima quando è venuta a prendere il lupo ragazzi si sentiva comunque tum quindi probabilmente erano i passi quindi dobbiamo sperare di non incrociare questa grilla anche perché non sembra affatto di buon umore tra l'altro ruba le anime poveri animali giusto per avere pochettino ne svago tipo ragazzi guardo una serie risucchio l'anima a quest'animale così mi guardo un episodio della mia serie preferita una cosa del genere comunque pensavo ragazzi sinceramente che quest'oggi sarebbero andati via dal bosco di ferro che saremmo tornati da gratos da tir da compagnia bella invece no siamo ancora qui e tra l'altro di nuovo ragazzi ci fanno fare cose che effettivamente per la storia principale non so quanto siano importanti oddio magari la questione grilla può darsi che avrà qualche significato importante non lo so in ogni caso mi sembra che ci abbiano tenuto nel bosco di ferro forse per più tempo magari di quello che sarebbe stato davvero necessario però non voglio comunque ragazzi esprimere alcun tipo di giudizio il momento delle considerazioni ragazzi arriverà ovviamente a fine game comunque come sempre ragazzi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento questo video termina qui grazie a tutti un bacione e obdosh a tutti ragazzi da giocherina ciao 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 ciao